grazie purtroppo non sono lì con voi sono qui e mi dispiace per tutti gli amici i compagni le compagne di padova che avrei volentieri visto di persona ma la temperatura era veramente proibitiva non si può più neanche viaggiare con queste allora sono molto con quello che hanno detto fin qui donatella e andrea per quanto io capisca poco delle tematiche economiche ma mi convince molto la sua griglia di analisi e vorrei per arrivare alla questione della democrazia ripartire anch'io un po dall'undici settembre no perché c'è in questa guerra anche una stranissima rimozione del nostro passato prossimo no si è visto moltissimo all'inizio di questa guerra quando tutti hanno detto quest'idiozia no della prima guerra dopo 70 anni nel cuore dell'Europa ora intanto ce n'era stata un'altra del cuore dell'Europa che era stata quella nella ex Jugoslavia che non ci aveva fatto mancare niente diciamo eh e che paghiamo anche con questa guerra ma poi c'è stata un'intera sequenza di guerre dopo l'undici settembre c'è stato l'afghanistan c'è stato intanto c'è stato l'undici settembre come grande evento traumatico della globalizzazione e poi c'è stato la sequenza delle guerre contro il terrorismo con relativa trasformazione delle democrazie che erano interessate coinvolte in queste guerre e poi c'è stata la Libia c'è stata la Siria quindi diciamo la mia prima reazione a questa guerra è stata di disperazione non perché era la prima ma perché era un'altra guerra io ero già molto stanca di quelle precedenti tra l'altro avevo raccolto il mio lavoro sul dopo undici settembre in un libro che era uscito a settembre scorso insomma mi sembrava di aver chiuso un capitolo no mi pareva che con l'afghanistan si fosse chiuso un capitolo con questo grandissimo smacco subito appunto dall'idea dell'esportazione armata della democrazia invece eccoci qua di nuovo e di nuovo con una guerra all'inizio Antonio parlava di una difficoltà di comprensione della necessità di guardarla da punti di vista e con categorie più articolate di quanto non si faccia eccetera eccetera beh a me una delle cose che mi colpisce di più in questa guerra è il carico eh di eh addensamento fantasmatico che pende su questa guerra ehm se voi ci pensate sembra un grande regolamento di conti col comunismo reale col nazismo col fascismo i riferimenti continui sono alla prima guerra mondiale alla seconda guerra mondiale c'è una specie di Babilonia della storia no che ci confonde molto e che ehm è molto potente perché i fantasmi naturalmente hanno una loro straordinaria potenza e producono effetti di realtà ma che fanno e fanno anche da Pandanna una grandissima difficoltà a rapportarsi con i problemi del presente e dell'ultimo ventennio per l'appunto quindi questa sfasatura temporale mi sembra una prima questo spaesamento temporale mi sembra una prima caratteristica molto ehm eh portatrice di di grande turbamento e di grande ehm confusione la seconda cosa che naturalmente mi ha colpita moltissimo fin dall'inizio eh è stato detto eh non c'è bisogno che io lo ripeta ma insomma questa sequenza pandemia guerra cioè mh eh l'avvenire di questa guerra eh nel momento in cui speravamo di essere sul punto di uscire dalla pandemia peraltro auspicio tutt'altro che confermato da come stanno andando le cose ma lasciamo perdere beh questo dice qualcosa insomma certamente dice le cose che diceva Antonio all'inizio cioè un addensarsi di contraddizioni eh che che portano probabilmente a un effetto di saturazione della tenuta del capitalismo globale però dice anche qualcosa guardate a livello di psicologia di massa cioè dice eh insomma di una prevalenza del della distruttività e dell'autodistruttività a fronte di quello che c'eravamo detti durante la pandemia cioè che bisognava riabilitare il paradigma della cura ehm l'ontologia della vulnerabilità tutto questo è stato spazzato via con questa deriva di autodistruzione mortifera eh necrofila e necropolitica come diceva prima Donatella che è veramente impressionante e anch'io sono molto colpita da come lo scenario ucraino stia interiorizzando degli elementi del martirio suicidario del fondamentalismo eh suicida che erano che noi vent'anni fa l'Occidente no eh diceva che erano propri dell'altro del diverso del nemico no perché noi invece eravamo laici e liberi da tutte queste questi residui eh di una retratezza culturale in realtà nello scenario ucraino noi abbiamo visto le stesse cose chiamate con altri nomi quando io ho visto circolare la foto della ragazzina col Kalashnikov e il lecca lecca in bocca non so se ve la ricordate un'icona di questa guerra beh io mi sono ricordata i campi di addestramento già i visti dei ragazzini già i visti cioè è esattamente la stessa cosa chiamata però patriottismo questa volta chiamata eh resistenza no con una eh un uso di questo termine così che è stato molto molto controverso se accostato alla resistenza da cui veniamo noi che era di tutt'altro segno eccetera quindi effettivamente c'è un'impronta suicidaria del pianeta che è molto impressionante e che si si aggiunge un po' a questo senso di apocalissi che viene anche dalla dalla crisi climatica e ehm e dalla crisi delle materie prime perché insomma eh sono vere tutte le cose che diceva Andrea anche io sono convinta per quel pochissimo che ci capisco che la dimensione monetaria è molto importante in questa guerra ma è anche vero che c'è una mobilitazione di un immaginario catastrofico mica da poco perché se manca il grano mancano i semi mancano i mangimi mancano proprio manca il gas manca l'energia mancano proprio le materie prime è chiaro che questo senso di angoscia appunto da fine del mondo si accentua sempre di più e in questo scenario che bisogna collocare questa questione della retorica democratica ora la retorica democratica la retorica di guerre fatte in nome per conto della democrazia accompagna questo ventunesimo secolo fin dall'inizio abbiamo cominciato appunto dopo l'undici settembre a fare le guerre abbiamo ha cominciato l'occidente a fare le guerre in nome della democrazia per difendere la democrazia dal nemico dall'altro dall'alieno che in quel caso appunto era il fondamentalismo islamico e in uno scontro di civiltà come si disse allora con il fondamentalismo islamico e stiamo continuando adesso ricreando lo stesso scenario di scontro di civiltà guardate questo è veramente identico la costruzione del discorso dello scontro col nemico in questa guerra è assolutamente identica a quella di eh vent'anni fa assolutamente identica ed è stata costruita nello stesso modo dai think tanks americani che io seguo con una certa ehm puntualità è stato proprio costruito il nemico nella figura dell'autocrate parola sulla quale tra l'altro ci sarebbe molto 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 da lavorare da discutere no perché l'autocrazia ha delle assonanze con l'autoritarismo ma non è auto autoritarismo ha molto più a che vedere nella sua radice etimologica con il narcisismo se volete con con l'autoreferenzialità della politica di oggi ora ci sono due problemi su questo il primo problema è di carattere geopolitico logico cioè si può continuare a cercare di governare un mondo globalizzato con la densità della globalizzazione nella stratificazione le stratificazioni della globalizzazione io parlo anche di una globalizzazione politica non solo eh culturale non soltanto economica continuando ad allestire scontri bipolari cioè questo è veramente un riflesso condizionato del bipolarismo novecentesco di cui sotto sotto evidentemente hanno tutti molta nostalgia no? Ed è quello che si sta riallestendo per l'appunto nello scenario ucraino ma io non credo che sia possibile governare egemonicamente un mondo globale continuando ad allestire questi teatri queste confrontation eh di questi scontri di civiltà presunti andando nel merito di questi scontri di civiltà qui ogni volta c'è una rappresentazione assolutamente innocente e teleologica oserei dire religiosa della democrazia no? La democrazia non è più come diceva Bobbio che era uno che di democrazia se ne intendeva il meno peggio dei regimi politici inventati dall'umanità è diventata una religione un'universale a cui tutto il mondo deve tendere e così appunto eh dall'ottantanove in poi da dopo la caduta del muro di Berlino in poi diventa sempre più così ma diventa sempre più così sul piano valoriale e propagandistico a fronte di una palesissima crisi delle democrazie reali in cui noi ci troviamo e le quali numero uno sono piene di elementi autocratici che non appartengono affatto soltanto alle autocrazie orientali cioè alla Russia oppure alla Turchia alla Cina eccetera purtroppo le nostre democrazie sono sempre più pervase di elementi autocratici e di tentazioni autocratiche più di tutti lo dovrebbero sapere gli americani perché hanno avuto Trump che loro chiamavano per l'appunto autocrate ma lo dobbiamo sapere benissimo anche noi perché ne abbiamo avuto esempi e ne abbiamo esempi anche qui in Europa e in Italia non da poco e poi questa democrazia più si arma più si fa valore universale più diventa una religione più si depaupera al suo interno eh naturalmente dal punto di vista dei diritti dal punto di vista del eh binomio con lo stato sociale dal punto di vista dello stato di diritto e dal punto di vista dell'opinione pubblica perché quello che si è visto con questa guerra le liste di proscrizione la polarizzazione del dibattito eh proprio la eh così l'impossibilità di esprimere ehm qualunque desiderio di approfondimento delle cause delle ragioni degli sviluppi eccetera eccetera non si era mai visto finora c'è sempre un tasso di militarizzazione del dibattito pubblico nelle guerre questo lo dobbiamo sapere però forte come adesso non c'era mai stato prima in più eh noi stiamo vivendo in Italia un esperimento tecnocratico di prima grandezza con il governo Draghi che non è un governo tecnico è un governo tecnocratico è un po' diversa la cosa e e e quindi questo va questa diciamo questa propaganda democratica questa ehm enfasi sul valore eh universale della democrazia che deve per forza conquistare tutto il mondo attrarre tutti sedurre tutti è assolutamente diciamo contraddetto dallo stato delle democrazie reali aggiungo a questo un elemento di carattere storico al quale io tengo molto perché qui sembra che ci dividiamo tra chi addossa tutte le responsabilità di questa guerra Putin e chi le addossa tutte alla guida americana della Nato e al lista della leggemonia americana eccetera beh in realtà io vorrei sottolineare molto fortemente le immani responsabilità che in questo scenario ha l'Unione Europea per come si è eh formata adesso sarebbe un discorso lungo e naturalmente non ho nessuna intenzione di farlo qui in pochi minuti ma dico solo questo che dall'ottantanove in poi l'Unione Europea si è allargata verso l'Unione Europea non solo la Nato quello che secondo me va messo in questione è la modalità dell'allargamento dell'Unione Europea a est perché si è allargata verso est quest'Unione Europea annettendo tutti i paesi dell'ex blocco sovietico al mercato includendoli nel mercato e in un sistema di scambi ovviamente molto ineguale diseguale ma senza minimamente occuparsi di sorvegliare i processi di democratizzazione estremamente deludenti che invece si svolgerono in quei paesi non soltanto in Ucraina in una storia che ormai abbiamo imparato un po' a conoscere in questi tre mesi di guerra ma in tutti gli altri paesi del centro Europa che sono tutti avvolti da una sindrome di delusione rispetto al loro desiderio di europeizzazione c'è questa stessa dinamica c'è un grande desiderio di europeizzazione di affermare che chiusa la parentesi sovietica questi paesi dovevano ritrovare la loro identità europea dovevano essere accolti dall'Europa come un pezzo fondamentale dell'identità europea e poi la delusione di un di questa Europa che in realtà ehm ha mantenuto molto meno di quello che prometteva sul piano politico e sul piano anche voglio dire culturale quindi l'Europa delle responsabilità immense e ce l'ha specifiche sull'Ucraina perché è vero che eh gli Stati Uniti hanno assolutamente egemonizzato il processo eh i processi ehm che si sono susseguiti in Ucraina dal quattordici in poi no? Da Euromaidan in poi e li ha egemonizzati in modo molto violento talvolta attraverso i neocon le reti neocon eccetera ma è anche vero che l'Europa non se ne è occupata per niente di quello che lì accadeva quindi secondo me le eh responsabilità dell'Unione Europea sono molto molto forti solo qualche battuta sulla questione del patriarcato naturalmente in tutte le guerre è facile no? Vedere gli elementi di rivincita patriarcale il paradigma bellico è un paradigma virilista tendenzialmente patriarcale eccetera eccetera eh più difficile è vedere ogni volta quali sono eh le differenze specifiche in cui questo si in cui il patriarcato si rinnova perché il patriarcato non è sempre lo stesso eh è un errore pensare che sia sempre lo stesso allora a me pare che questa volta ci sia molto fortemente intanto un elemento di crisi manifesta del patriarcato medesimo che io tendo a analizzare in termini di fine del patriarcato da molti anni e non solo di crisi uno di questi elementi in questa guerra è molto visibile ed è questa stanchezza degli eserciti di quello russo e di quello ucraino lo diceva prima Donatella questi giovani uomini mandati a morire che non ne hanno granché voglia specialmente quelli russi no? Forse quelli forse l'esercito ucraino è più compatto nel suo nazionalismo questo non lo so ma certamente c'è questa disaffezione dei giovani maschi dalla ehm dal romanzo di formazione alla virilità che è la guerra e guardate che questo è un elemento molto importante perché per esempio nella società americana la stanchezza maschile rispetto alla guerra il fatto che quella è una società che non la vuole più fare la guerra è una cosa che ha molto peso moltissimo peso nelle decisioni eh della politica quindi eh c'è diciamo questa frattura all'interno della questione maschile come la chiamiamo noi nel femminismo che è da considerare di converso c'è l'investimento di vecchi uomini al comando Putin da una parte Biden dall'altra sulla giovinezza di Zelensky come se fosse questo giovane leader così iper moderno post moderno no? Che se eh faceva l'attore ha prodotto la realtà a partire dalla sua fiction ha tradotto in realtà la sua fiction e poi porta queste magliette in cui si vede molto bene la sua atleticità eccetera 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 è come se ci fosse un investimento dei maschi anziani su questa su una cura ricostituente che può essere rappresentata da questo nazionalismo di un leader giovane che ha attorno a sé molte donne che gli fanno da eh che gli sono complici e che sono perfino più zelanti di lui nel nell'affermare questi valori nazionalisti pensate alla vice premier no? L'abbiamo vista tante o in tuta mimetica non a caso proprio una mimesi del maschile molto evidente dall'altra parte cosa c'è? Cioè ci sono le altre donne quelle destinate invece al ruolo di vittime di profughe ehm vittime eh angeli di questi focolari distrutti dalle bombe donne senza speranza donne destinate al mercato della cura al mercato precario della cura nei paesi europei eccetera quindi c'è un ridisegno diciamo dei rapporti tra i sessi molto inquietante che avviene in un momento in cui mh peraltro gli altri attori in campo non scherzano perché da una parte c'è Putin che agita il i valori patriarcali di Kirill della chiesa eh ortodossa e dall'altra parte ci sono gli Stati Uniti in cui i diritti per dire l'autodeterminazione in materia di aborto come sapete è sotto attacco in maniera inquietante quindi che cosa fare rispetto a tutto questo? Beh forse questo sarà oggetto del prossimo giro me lo tengo eventualmente per il prossimo giro le pochissime idee che ho e ti rilascio la parola Antonio grazie Grazie a tutti.